Sono qui oggi con Salvatore Leggero della Leggero Real Estate che è venuto a raccontarci un po' della sua storia e alcuni dettagli di aspetti inconsueti del modo in cui sta portando avanti il suo lavoro. Ciao Salvatore, grazie per avermi dedicato un po' del tuo tempo. Grazie a te e grazie di questa opportunità di farmi conoscere. Allora Salvatore, tu mi raccontavi che hai proprio un talento dentro di te per l'imprenditoria, che fin da piccolo hai sempre desiderato fare questo. Dimmi in due parole perché e cosa ti piace di più di questo lavoro di imprenditore, qualcuno che crea qualcosa dal niente. Secondo me non c'è niente di più affascinante. Il bello di creare le cose da zero e di immaginare quello che poi può diventare un'esperienza, anche un soggetto economico, è probabilmente la cosa più bella di tutte. Non lo so, mi immagino sia così come per Dio creare, senza essere blasfemo. Per me era una vocazione, nel senso che qualunque cosa avrei fatto nella vita l'avrei fatta con piglio imprenditoriale. Infatti non c'è bisogno di fare grandi capitani di impresa, ma lo spirito imprenditoriale è quello che spesso accomuna le persone, anche quando sono dipendenti. Non è il mio caso, io sono condannato assolutamente alla vittoria anche perché l'unica cosa che puoi fare nella carriera di imprenditore è sbagliare. E questa è un'altra cosa che mi piace molto, parlare dell'errore, perché quanti più errori fai, tanto più cerchi la strada per la via giusta di fare le cose. Bene, questo mi fa venire in mente una visione dell'imprenditoria che spesso si dimentica, ovvero che per l'appunto l'imprenditore è qualcuno che alla fine crea qualcosa dove prima non c'era nulla, in qualche modo, ed è quello che poi è il motore dell'economia, delle iniziative personali, eccetera. Sei d'accordo su questa definizione? Sono molto d'accordo ed è forse il motivo per cui da vocazione diventa condanna, perché ti senti la responsabilità sulle tue spalle di poter fare qualcosa per cambiare il tuo ambiente. E provi a cambiarlo portando una parte di te in questo cambiamento, quindi è una sfida, ti metti in gioco, soprattutto condividi con le persone, per cui o tiri su persone quando le prendi a lavorare o le attraverso il lavoro consenti una parte della loro realizzazione professionale, ma anche umana, perché poi con il lavoro si fanno un sacco di cose, si pagano i mutui, gli affitti, le scuole dei figli. Ok, senti, tu nella tua lunga carriera, nella tua storia in cui hai fatto tante cose diverse, ho visto che hai avuto modo di incrociare uno dei più importanti formatori italiani e mi confessavi di essere amico forse dei principali, dei più importanti formatori in Italia, pur non occupandoti tu stesso di formazione. Questa cosa per me è stata una grande combinazione, perché noi ci siamo incontrati per motivi completamente diversi e invece abbiamo scoperto un punto in comune. Una cosa soltanto, velocissima, tu mi dicevi appunto non ti occupi di formazione e forse non hai avuto mai modo di seguire programmi di formazione in maniera così intensiva come molti fanno. Pensi che sia un aspetto importante, una cosa da fare, che consigli? Qual è la tua visione in questo senso? A mio avviso gli eccessi sono sbagliati per tutto, quindi anche nella formazione, però non si può fare niente senza un percorso di formazione. È cibo per la mente, quello che mi dà l'opportunità di mettere in discussione il mio pensiero. Quindi benvengano i miei amici, Roberto Reintesta, che mi fanno riflettere su delle cose, anche quando le vivo con spirito critico, o benvenga il vecchio libro, che è un compagno fedele e che non chiude mai. È disponibile 24 ore su 24. In relazione a questo è magari rivolto ai più giovani che stanno cercando la loro strada e di ieri, credo, la notizia è che il nostro ministro del lavoro ha fatto un'altra delle sue cosiddette gaffe, secondo me non tanto gaffe, in cui diceva anziché spedire curriculum giocate a calcetto. Fermo restando, che secondo me la frase è stata interpretata in maniera non corretta, tu quanto pensi che conti? La capacità di creare relazioni rispetto alla capacità invece di concentrarsi semplicemente sulla propria competenza? Non ho niente incontrato sul calcetto, però credo che lavorare e costruire se stessi sia una cosa fondamentale, sia come uomini, donne e come professionisti. Ritengo che invece di spedire il curriculum ho un segreto, ha sempre funzionato, portateli. Se portate il curriculum, sapendo aspettare anche di parlare con le persone che poi decideranno se assumervi o no e aspettateli in silenzio, magari per giorni, senza dare fastidio, importunare nessuno, credo che quella sia una chiave, sia il miglior curriculum, qualunque cosa ci sia scritto, anche senza tante esperienze. Quindi sei d'accordo che si tratta di relazioni poi prima di tutto? Tutto, è tutto. Le relazioni sono fondamentali, ma non diciamo che ci vogliono le relazioni. È bello lasciarsi andare nel costruire relazioni, a tutti i livelli. Quindi non bisogna vivere la relazione come la conoscenza necessaria per arrivare a un fine. È il farsi conoscere, come sto facendo io con te e con i tuoi seguaci. La capacità di entrare in contatto con altre persone, scambiarsi e mettere sul piatto cose che possono essere messe in comune. Bene, perfetto. Cambiamo un attimo argomento per l'ultima domanda, l'ultimo tema che vorrei trattare con te. Mi raccontavi di questo progetto bellissimo di inserire un aspetto più profondamente legato all'arte e alla cultura nei tuoi progetti proprio di ristrutturazione immobiliare. È una cosa che trovo molto interessante e originale e che può valorizzare in maniera importantissima un lavoro che invece normalmente forse è basato un po' troppo sugli aspetti economici, un po' meno sugli aspetti culturali e qualitativi. Come ti è venuta in mente questa cosa? Guardando il passato è semplicissimo, come italiani ma anche europei abbiamo sempre avuto una vocazione a costruire immobili di qualità. Infatti generalmente quando la guerra non ce li ha buttati giù non li demoliamo per ricostruirli. Al contrario di altri paesi come Stati Uniti e Cina per non andare tanto lontano che rifanno da zero e ricostruiscono. Nessuno di noi si sognerebbe di demolire un palazzo nel centro di Roma o nel centro di Venezia per dirne due. A questo punto anche nel futuro possiamo utilizzare lo stesso insegnamento, prolungare attraverso il design ma anche l'arte e l'architettura e tentare di costruire in un modo responsabile verso l'ambiente, consapevole verso chi utilizzerà gli immobili, nuovi contenitori urbani però belli, anche molto belli, dei capolavori. Fantastico, quindi la nostra Italia continuerà ad essere un'Italia così come la conosciamo noi? Con noi e con aziende come la mia e con chi deciderà di seguire questo filone? Sicuramente. E per questo quindi che hai deciso anche di impiegare una piccola parte del tuo tempo nel fare comunicazione per te stesso, visto che hai iniziato a scrivere dei post, a fare un blog su Tumblr, insomma stai raccontando proprio con le tue parole, di tuo pugno alcune bellezze immobiliari del nostro paese. Pensi che anche fare comunicazione in questo senso sia importante? Molto importante la comunicazione, senz'altro per me e per la mia azienda, ma è anche un modo per portare all'attenzione dei più la grande bellezza che ci circonda e ci circonda spesso in Italia più che altrove, nelle città, nei borghi, nelle piccole piazze di paese. E questo è però anche un modo per restituire qualcosa, per sensibilizzare l'opinione pubblica di addetti ai lavori, di non addetti ai lavori, non importa, per sensibilizzare l'opportunità che abbiamo, la grande fortuna che abbiamo di svegliarci in un posto bellissimo e spesso non diamo un giusto valore. Esiste il valore economico che è fondamentale, che io amo molto, che è il profitto dell'impresa, però esiste anche un valore intangibile, che il fatto che sia intangibile, non si tocchi, non significa che non c'è. Ringrazio Salvatore Leggero per essere stato qui con me oggi, è stato veramente un piacere incontrarti e parlare con te e spero che magari ci potranno essere altre occasioni. Grazie molto a voi di questo invito e alla prossima occasione.